Professoressa Giuseppina Capriotti Vittozzi, siamo nel terzo millennio dopo Cristo e siamo un'umanità ancora affascinata da costruzioni maestose del terzo millennio avanti Cristo. Da dove nasce la forza anche dentro l'immaginario delle piramidi? Il fascino delle piramidi attraversa indubbiamente i millenni e oggetto di proverbi, il proverbio arabo che dice l'uomo teme il tempo, il tempo teme le piramidi e quando si parla di piramidi in questi termini si parla delle grandi piramidi di Ghiza. L'uomo percepisce che si è di fronte a qualcosa di epocale, uno stravolgimento del territorio, l'uomo che arriva a uno stravolgimento potremmo dire geologico, per costruire un nuovo paesaggio che è un paesaggio sacro. Abbiamo detto del tempo, ma qual è stato il tempo in cui sono state edificate, costruite le piramidi e qual è stato il tempo effettivo di edificazione? Cioè quanto è stato lungo questo lavorio che ha portato a queste costruzioni solenni? Beh questa è una bella domanda perché la certezza non l'abbiamo. Hanno richiesto anni ma non abbiamo idea esattamente di quanti né di quanti uomini siano stati impiegati. Qualcuno ipotizza 10.000 e comunque con una grande differenziazione di ruoli, cioè lavoratori stagionali meno specializzati ma poi invece specialisti straordinari che permanentemente lavoravano nel cantiere. Che cosa rivela della società egiziana una costruzione come quella delle piramidi? Qual è il tratto più essenziale che ci rivela ancora? È indubbiamente la struttura piramidale tanto per restare in tema. Dire tomba è dire poco perché è come dire una sorta di luogo della rigenerazione, un luogo di trasformazione per la rinascita. Siamo ancora in una fase nella quale il sovrano è veramente lontano dalla base della popolazione anche per questa sua prerogativa riguardante l'aldilà. È curioso però osservare come attraverso i secoli e i millenni successivi questa prerogativa diventa sempre più allargata. Esiste una sorta di democratizzazione dell'aldilà e fino ad arrivare a Roma in cui potremmo dire un parvenu come Caglio Cestio si fa costruire una piramide appunto. Grazie.